Non potranno più accedere per i prossimi sei mesi, dalle 20 alle 3 di notte, negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento del quartiere Carrassi di Bari, nel perimetro compreso tra via Benedetto Croce, via Capruzzi, via Giulio Petroni e via Papa Giovanni XXIII, compreso il Parco Rossani, e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi luoghi i tre ragazzini minorenni ritenuti tra i responsabili della presunta aggressione omofoba commessa all'inizio di luglio nel Parco Rossani di Bari. I tre sono stati raggiunti dal provvedimento di Dasporbano. Una coppia, una ragazza, 23 anni di Foggia e un ragazzo, 19 anni di Pescara, fu insultata e ferita col lancio di sigarette accese e infine uno dei due colpito alla testa con una pietra. L'episodio fu definito un'aggressione omofoba in quanto la coppia sarebbe stata reduce dal Bari Pride che si era tenuto poco prima per le vie del centro cittadino. I provvedimenti amministrativi sono stati possibili grazie alla tempestiva attività di indagine dei poliziotti del commissariato Bari Nuova-Carrassi. Nella circostanza, le vittime furono costrette a ricorrere alle cure dei sanitari del 118, avendo riportato delle lesioni.